Ciao a tutti da JJR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presono Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Ho pubblicato questa foto del mio home studio del periodo 1997-1999 su Facebook come vediamo e siete rimasti tutti molto felici di vedere come in fondo anche nel panorama pro si adottavano misure emergenziali al limite del peggior producer moderno. Lo studio era ancora in quel periodo considerato un ambiente di lavoro molto professionale, si usavano ancora i banchi e gli studi erano già calibrati, gli ascolti corretti eccetera eccetera. Insomma per lavorare in studio dovevi necessariamente lavorare nel campo professionale e questo accadeva ormai da diversi anni. Ho iniziato nel 1993 e dopo cinque anni circa pensai di creare un sistema ottimale da utilizzare in casa per le cose più rapide e veloci per poi finalizzarle appunto in studio una volta che l'arrangiamento girava e funzionava bene. Quello che all'epoca appunto chiamavamo e si chiamava preproduzione. La foto è lì per ricordarci da dove siamo partiti, cosa facevamo e come lo facevamo. Non per fare i boomers a tutti i costi quanto invece per capire gli errori e quanto le situazioni ideali per una vera produzione professionale. In questo video oltre a svelarvi come procedevano le fasi di preproduzione e produzione vedremo qual è il fattore mancante oggi per poter raggiungere quel genere di risultato. Anche perché è ormai oggettivo il fatto che la musica oggi sia infinitamente più scadente di quella prodotta vent'anni fa. Nonostante la potenza, la versatilità e la tecnologia attuale siano infinitamente e proporzionalmente migliori di quelle che vi mostrerò. A differenza di tanti che ancora utilizzavano i sistemi digitali ma sempre sul nastro multipista come ad esempio i sistemi ADAT o i Fostex decisi invece di passare direttamente al digital recording invogliato anche dal mio insegnante dell'epoca Luca Spagnoletti che saluto del St. Louis. Struttura presso la quale poi divenni io stesso docente negli anni successivi. Proprio collaborando con quella scuola venni poi a contatto con artisti internazionali del jazz con cui collaborai anche come sound engineer. All'epoca chi parlava inglese e soprattutto l'inglese tecnico era ricercatissimo. Ritornando allo studio casalingo la scelta fu obbligatoriamente Macintosh ed in particolar modo il Mac con Power PC. Sto parlando del G3 che vedete in foto. Lo vidi per la prima volta a casa di Simone Sello e lo volli immediatamente. Credo fosse il 1993 forse prima. Con il Mac Power PC si poteva grazie a Cubase VST di Steinberg registrare audio digitale su harddisk a 16 e 24 bit se la scheda lo permetteva. Forse non vi rendete conto della cosa oggi perché è normale farlo ma in quel momento in quel tempo era come possedere il futuro nelle mani. Poter registrare tracce all'infinito senza dover stare attenti a non rovinare i nastri. Potendo poi tagliare e cucire fare loop e tanto altro che oggi ci sembra banalissimo con studio One Prime soprattutto quello gratis. Lo stesso ovviamente valeva per il midi. Il mio primo studio home era interamente midi quindi stiamo parlando proprio dei primi anni 90 su Atari ST come moltissimi altri ma questa è un'altra storia che risale addirittura dieci anni prima quindi alla fine degli anni 80. Il Mac Power PC permetteva questo sistema quindi registrare su harddisk anche solo utilizzando l'ingresso analogico posteriore quindi la scheda audio integrata del Mac. Nella versione AV aveva addirittura ingressi su connessioni RCA separati left e right. Non esistevano ancora schede audio di nessun tipo né tantomeno l'uso della USB era una cosa comune. Anzi la Apple come dicevamo era una scelta quasi obbligata in quel periodo. Il costo delle macchine era esorbitante. Quelle che vedete nella foto costavano tantissimo rispetto anche a quanto ci possano sembrare oggi costose quelle prodotte. Ma la tecnologia di queste macchine lo vedremo tra poco era così avanzata e resistente da non voler rischiare di assemblare un pc in ogni caso. All'epoca assemblare un pc per l'audio era cosa molto molto complessa. Il primo processore di questa serie fu il Mac G3 anche se il sistema funzionava già sui 68.000. Lo ricorderanno in molti nel suo esordio del primo iMac colorato che tanto ebbe successo con il ritorno di Steve Jobs in Apple e riscosse al tempo un successo di mercato pazzesco. Era già il 1996 quando appunto Steve Jobs ritorna in Apple ad affiancare l'iMac c'era questo G3 grigio ma il primo su cui misi realmente le mani fisicamente fu quello di Salvatore Russo che all'epoca era in tour con Massimo di Cataldo e venditti. Per cui iniziai a sperimentare la configurazione di questo G3 in quel frangente capendo anche come aggiungere, modificare e integrare il resto del sistema. Siamo arrivati quindi al 1997 circa. L'anno successivo il 1998 acquista il mio G3 che possiedo ancora e che è recentemente tornato utile per il recupero di antiche sessioni di Cubase VST. Questa macchina per quanto possa sembrare strano aveva un processore a 233 MHz che aggiornai insieme alla RAM presso uno dei pochissimi siti internazionali di accessori per Mac e che uso tuttora e sto parlando del sito OWC che risiede anche sotto il dominio www.macsales.com. Aggiornai il processore come dicevo da 233 a 333 MHz. Sembra ridicolo ma faceva una differenza enorme. Oggi ridiamo di queste prestazioni ma all'epoca erano da capogiro. Configurare quelle macchine era estremamente complesso. S9 all'epoca era un vero e proprio trespolo sul quale le applicazioni si innestavano con estrema difficoltà ed i crash erano considerati una cosa normalissima. La gestione del midi era assegnata ad un software di terze parti chiamato OMS acquistato poi da Gibson e completamente distrutto e affondato. Il resto del midi era gestito egregiamente nelle patch soprattutto per chi usava synth esterni con un software della moto famosissimo all'epoca chiamato Unisyn e che si interfacciava molto molto bene con Cubase. Cubase come anche Digital Performer e Logic Audio erano estremamente elementari ma funzionali rispetto ad oggi. Come dicevamo Studio One Prime gratuito di oggi è molto molto più è molto ma molto più avanzato e performante di quanto lo fossero questi software all'epoca. Con il G3 arrivarono anche grosse novità. Come dicevo la porta USB, l'assenza dei floppy anche se questa versione ancora ce lo aveva, il lettore cd che vediamo sotto al floppy, l'ingresso e l'uscita audio separate, le porte parallele, l'uscita VGA e la scasi che venne poi gran mano abbandonata a favore delle connessioni interne IDE più economiche. I mouse erano però ancora con la pallina sotto, si intravedevano i primi ad infrarossi con quelli prodotti da Logitech. Come vediamo nella foto di Cubase VST24 era possibile gestire audio e MIDI molto velocemente e premixare una buona parte di quello che si stava facendo. Nel 1999 arrivarono anche le prime software house che iniziavano a sviluppare i plug-in come Native Instruments, PSP, Spectrasonics, Sonalxis eccetera eccetera. Ne vedremo alcuni in foto. Erano pochi, utili e molto funzionali. Come software di campionamento si usava molto UNISIS in grado di farci mappare velocemente i samples e creare delle librerie personalizzate e rapide da usare via Rewire proprio con Cubase. Rewire oggi è stato completamente dismesso ma era un sistema di interconnessione audio tra software creato dalla Propellered per interfacciare il loro must-have assoluto degli anni 90, Rebirth, un vero e proprio capolavoro appunto degli anni 90 che utilizzava campionamenti reali della Roland 808 e che venne chiuso dopo appunto la denuncia di Roland. Si trasformò quindi in Reason che ancora oggi è in funzione anche se non sarà mai ai livelli di successo di Rebirth. Il G3 aveva inoltre le prime PCI e PCI-X in grado di ospitare le nuove schede che presto sarebbero arrivate sul mercato. Midiware in quel frangente fu essenziale per l'allestimento del mio studio. Il nostro lunghissimo rapporto si consolidò proprio nel 1998 quando entrai nel team dei dimostratori e debbi modo di mettere le mani su ogni cosa che arrivava anche quelle che poi non ebbero neanche un mercato e morirono alla versione demo. Le schede audio che usavo spesso in giro quindi quando mi muovevo per i demo erano la Egosys Wave con due in due out a 24 bit migliore di quelle presenti nel Mac come anche la Roland Edirol UA30 che usai poi nel disco di Salvatore Russo. La Egosys in accoppiata con il convertitore Mindprint di iPort fu un sistema portatile che usai tantissimo successivamente anche per registrare i live di Ingrid Malmsteen con cui collaborai fino al 2003. A questa configurazione aggiunsi poi un preamplificatore Envoice della Mindprint sempre preso ovviamente da Midiware con cui registrai le voci e gli strumenti in casa proprio nella stanza che state vedendo. Da questo semplice sistema nacquero le registrazioni di basso e chitarre per gli album di Anna Belen, Pieces de Ciudad, Armando Manzanero, Duetos, Aleandro Sanz e Fernando Osorio prodotti da Emanuele Ruffinengo a Miami e registrate sempre da Salvatore Russo e Alfredo Paesiao. Gli album furono poi missati a Miami e vendettero oltre 6 milioni di copie in totale vincendo anche alcuni Latin Grammy. Con l'uso invece di un microfono assolutamente scadente, l'MXL 2001, arrivato sempre da Midiware e mai distribuito da loro, registrai delle voci per il mio primo album Lounge Music che però non arrivò sul mercato fino al 2005. Quel disco era sempre stato fatto utilizzando i musicisti di cui sopra, alcune voci di altri cantanti e mentre i loop furono realizzati tagliando le tracce di Alfredo Golino create per l'album di Anna Belen. Il disco rimase nel cassetto per sei anni circa, nessuno lo volle fino a quando non esplose poi la musica lounge in tutto il suo successo. I brani arrivarono a vendere fino a 250 mila copie e si trovano ancora su iTunes a distanza di 20 anni. L'MXL si ruppe molto presto, ne comprai un altro ma venne comunque rimpiazzato quasi subito da un AKG 414. Grazie al successo riscosso acquistai il resto di quello che vedete in foto, tra cui delle apparecchiature estremamente costose per l'epoca ma essenziali per la continuazione del successo e della mia cameretta romana. Non sto parlando del mixer o dei synth, quanto invece di quegli oggetti all'epoca veramente all'avanguardia, come il masterizzatore 4x della Yamaha su interfaccia SCASI ed il monitor Apple Studio Display 15LCD che vedete in foto. Il display all'epoca costava una cifra esorbitante, era uno dei primi monitor LCD ma fui costretto ad acquistarlo perché i miei occhi si seccavano letteralmente dopo solo tre ore di lavoro davanti al classico monitor CRT. Mi ricordo usavo un CRT della Acer da 17 pollici ma lo dovessi dismettere subito. I display e le cd erano solo da 15 pollici come vediamo, gli stessi che vedete montati anche sul macbook portatile ed erano un vero e proprio toccasana per la mia vista consentendomi di lavorare anche fino a 10 ore. L'altra spesa folle fu il masterizzatore SCASI ma almeno ero in grado di creare i cd e portarli subito nei locali o in macchina per ascoltare quello che stavo missando in camera, oltre ovviamente alla possibilità di copiarne altri. Il costo del masterizzatore ancora lo ricordo era 1.450.000 lire e un cd vergine costava circa 14.000 lire l'uno e li faceva prevalentemente soltanto verbati almeno fino al 1995. Proprio nel 1998 arrivarono i primi dvd e il computer portatile che vedete nella foto possedeva un lettore dvd. Il computer di cui stiamo parlando è un Mac G3 denominato Pismo che sostituì quello precedente sempre G3. Lo si riconosce dalla mela bianca anteriore sopra al monitor anziché una mela iridata. Era comunque considerato nonostante quello che si vede in foto il portatile ultrapiatto dell'epoca. Costava quanto un'automobile usata? Credo di aver speso circa 6 milioni e mezzo se non ricordo male. Dovrei comunque cercare la fattura ma ero ero quasi sicuro di questa cifra e possedeva un processore G3 di ultima generazione, due vani per il lettore dvd e la batteria che potevano essere smontati per poter ospitare fino a due batterie ed arrivare ad una capacità di lavoro portatile di diverse ore circa 4 o 5 se non ricordo male. Oltre alla possibilità di aggiornare la ram, l'hard disco interno eccetera eccetera. Le porte di connessione erano tutte posteriori, due porte Firewire appena uscite proprio appena presentate, due porte USB connessione VGA parallela, in e out audio, ingresso ethernet, ingresso modem telefonico e udite udite uscite di ingresso ad infrarossi per interfacciare un telefono GSM e navigare su internet o scaricare la posta. Roba da fantascienza per quel periodo. Lo vendetti poi per passare ad un portatile G4 ma non prima di averlo usato tantissimo in giro e soprattutto per aver realizzato il primo disco italiano interamente con un computer portatile compreso il mix e il mastering in cuffia che oggi è diventato una pratica normale. Fu una cosa così particolare e innovativa che uscirono diversi articoli riguardo sia su AX sia su Macworld e Macintosh Magazine. In quel momento il massimo dell'informatica era relegata ai palmari monocromatici o alla Nokia che fece uno dei primi telefoni pieghevoli. Con queste due macchine lavorai tantissimo fino al 2005 facendo poi un upgrade al G4 portatile e al G5 come Mac Pro. Lo studio venne poi arricchito come vediamo in foto sempre in quel periodo con uno Yamaha 01 Pro Mix preso insieme a un GV 1010 espander della Roland in grado di ospitare una card del 1080 più famoso. Il Nova Novation che furono portate come merce di scambio di lavoro da Giulio Ferrarin che in quel periodo lavorava insieme a Marco Trani. Chi fa il DJ da tanti anni conoscerà sicuramente i due personaggi storici del panorama dance italiano. Le NS10 erano un must degli anni 90 o quelle o le Genelec. Non c'era altra scelta per un ascolto in studio. Guardando ora alla configurazione al tipo di ascolti e soprattutto al tipo di stanza era indubbiamente il peggior sistema di ascolto possibile in casa ed infatti eravamo costretti costantemente a spostare gli ascolti in auto o in cuffia o in altri ambienti per capire cosa stessimo facendo aumentando non di poco lo stress generale. La tastiera MIDI che vedete in foto è una Roland non ricordo la sigla che non durò ovviamente tantissimo. Il resto sono hard disk esterni Firewire per il backup che all'epoca chiamavo botte de ferro 1 e 2. Poco dopo non si vede in foto arrivò un secondo monitor sempre studio display da 15 per aiutarmi nella divisione delle finestre. La scheda audio ebbe un aggiornamento molto importante e costoso proprio nel 1999. Come vedete ecco la prima RME Hammerfall DSP in grado di funzionare sia con il computer desktop sia con il computer portatile attraverso una card PCMCIA molto in voga in quel periodo. La RME debuttò subito con un prodotto PRO. Niente compromessi. 24 bit a 96 KHz pura potenza. Latenza 0, 8 in 8 out analogici, ingressi e uscite speed if e adat. Oltre all'interfaccia MIDI. Un mostro che risolveva di colpo tantissimi problemi dati da tutte le altre schede. Sempre tramite MIDI were presi insieme a questa scheda nuendo 1.2. Un vero salto di qualità sia hardware sia software quindi. Utilizzerò poi questa combo fino al 2009 quindi per 10 anni. Un ammortamento di 10 anni quindi senza alcun problema. Da lì decisi poi quindi di rimanere fedele a RME. Sarebbe stato il mio brand di riferimento proprio nell'Audio Pro. Come dicevo lo stretto rapporto con MIDI were mi portò ad un tour insieme ad Adelchi Battista. Un tour dimostrativo dei prodotti MIDI were appunto in tutta Italia. Un tour particolare perché decidemmo di far funzionare tutto quello che vi ho mostrato finora contemporaneamente e soprattutto live. Fu il primo sistema di recording live session tra tastiere e chitarre senza l'uso di amplificatori, batteristi o altro compreso lo speakering e il monitoraggio in tempo reale senza l'uso di un mixer ma tutto completamente virtuale. Si chiamava appunto VST Tour. Ve lo spiego nel dettaglio perché era veramente una follia che fortunatamente funzionava. Negli anni a venire molti poi adottarono questo genere di sistemi soprattutto nei live. Andiamo a vedere il VST Tour del 1999. MIDI were in quel momento aveva diverse attrezzature software in magazzino che non venivano utilizzate tutte insieme con uno scopo ben preciso. Alcune come vedremo addirittura ferme immobili perché i negozi non sapevano come venderle. Così con Adelky ci venne in mente di creare un sistema portatile tra virgolette perché era enorme e ovviamente ci volevano ore per montarlo. In grado di far suonare due musicisti chitarra e tastiera senza però impiegare un mixer né un fonico quindi effettivamente possedere un vero e proprio studio virtuale. Avevamo bisogno di una DAW Cubase che montata su un pc potesse fare da mixer per noi due che suonavamo con altri due computers. Uno che gestiva la chitarra elettrica ed uno che gestisse le tastiere virtuali VST. In quel momento erano appena usciti. In totale quindi tre computers con tre schede audio che si interfacciavano tra di loro. Il mio sistema era abbastanza complesso. Innanzitutto dovevo usare una DI per chitarra così impiegai il Mindprint & Voice come DI e PRE per poter avere un segnale di linea da inviare alla pedaliera analogica composta dai pedali MUG fatti per i synth e non per la chitarra. Il pick up esafonico invece Roland attaccato al mio convertitore G10 mandava i segnali MIDI al mio Mac con Cubase per suonare i VST instruments insieme al suono analogico della chitarra. Ho fatto uno schema all'epoca che vi riporto perché guardandolo oggi era una follia pura e pregavamo ogni sera che una volta attaccato tutto funzionasse senza problemi. Mi ricordo perché ne parlai in maniera molto divertita proprio con Bob MUG all'epoca in quel periodo in Italia. Un aspetto che non posso trascurare di quel periodo è l'arrivo di internet in forma più massiccia. Ossia internet lo utilizzavo già dal 1991 attraverso un provider romano chiamato Flashnet roba di poco email qualche misero motore di ricerca come Alta Vista o Yahoo niente altro pochissimi siti in HTML ma nel 1994 95 circa presero piede i primissimi esperimenti social soprattutto utilizzati dagli artisti emergenti e dalle band già affermate. No non sto parlando di Facebook né Instagram né altro. La prima che mi viene in mente era una comunità online che metteva a disposizione uno spazio web di pochi mega dove poter pubblicare la propria pagina e mostrare i propri contenuti. Foto o altro si chiamava GeoCities nessuno sicuramente la ricorderà ma la prima pagina web di Axe la feci proprio su quel sistema prima di poter avere in modo di acquistare un dominio vero e proprio quindi axmagazine.it Subito dopo venne creato MySpace molto più famoso un vero e proprio social network dove poter ascoltare le band guardare le foto gli eventi eccetera eccetera ma mancava quello che poi avrebbe fatto la fortuna di Facebook ossia una chat. Le chat già esistevano la più famosa era MSN di Microsoft poi subito Skype che permetteva anche le chiamate. Per cui su un eventuale biglietto da visita è ricostretto a mettere diversi contatti ed occupare un bel po' di spazio. Per i più audaci e smanettoni esistevano già dei server a cui accedere e parlare direttamente di argomenti più selezionati, delle vere e proprie hotline dedicate non soltanto al porno ovviamente quanto invece allo scambio di software o altro. Emule si fece strada molto velocemente proprio grazie allo scambio dei file mp3. L'mp3 infatti rappresentò una vera e propria rivoluzione nel campo di distribuzione musicale, un evento a cui tutti si gettarono a capofitto. Gli lettori mp3 iniziarono a spuntare in ogni dove fino ad arrivare ad avere telefonini in grado di leggere gli mp3. La Apple vinse la sfida creando iTunes e l'iPod anticipando qualsiasi piattaforma di streaming moderna come anche qualsiasi marketing genius delle case discografiche. Iniziarono a chiudere i negozi di dischi e via discorrendo. Ricordo ancora con nostalgia i Tower Records di New York dove facevo spesso scorpacciate di album a metà prezzo negli anni 90. Erano come vediamo momenti di cambiamenti molto rapidi, molto veloci a cui oggi ci siamo abituati ma che all'epoca fecero vittime soprattutto nella generazione precedente che si era già scontrata con l'arrivo dei cd negli anni 80 e che faceva una fatica enorme ad abituarsi ad ascoltare la musica in quel modo. Internet era lento, molto lento, 56k nella maggior parte dei casi, 128k per chi possedeva una linea ISDN e quindi era più fortunato e invece la primissima ADSL costosissima riservata a pochi e che dovetti acquistare per poter inviare i file di registrazione delle sessioni agli studi all'estero con i quali appunto collaboravamo. Da qui nascono delle riflessioni. Era più semplice quindi fare musica negli anni passati? Era più complesso? No, secondo me era semplicemente più costoso. Il costo che si affrontava per poter avere apparecchiature e risultati professionali era altissimo e solo in pochi potevano permetterselo. Io personalmente solo grazie al lavoro che svolgevo altrimenti non ne sarei mai stato in grado ma potevo fare quel lavoro proprio grazie al costo delle apparecchiature che possedevo. Era un circolo vizioso. Ovviamente molte di quelle cose che vedete nella foto furono vendute per acquistare gli upgrade negli anni successivi nonché alcune furono acquistate sui mercatini come ad esempio Porta Portese che era un giornale che usciva a Roma molto ricco di annunci su apparecchiature audio e computers quindi si riusciva bene o male con molta fatica però ad acquistare la maggior parte di quello che vedete in foto. Roma ovviamente è stato un punto importante perché essendo una città molto grande permetteva questo ampio scambio. Ed il resto del panorama musicale? Chi respirava musica in quel periodo sicuramente ricorda l'ultima ondata di carta stampata perché verrà presto soppiantata completamente verso la metà degli anni 2000. La maggior parte delle riviste di settore o scompariranno completamente o si trasformeranno in una versione digitale. Ma chi era presente in quel periodo frequentava anche molto le edicole. Gran parte del mio lavoro fatturato derivava proprio dalla collaborazione con le riviste del settore. Era anche un modo per ammortizzare come vi dicevo le enormi spese che sostenevo per mantenere attiva e aggiornata la mia attività di producer e sound engineer. In quel lasso di tempo quindi tra il 95 e il 2003 scrivevo assiduamente sia su riviste di chitarre come ad esempio Axe, la prima in assoluto, Metal Shock con la rubrica Shredding, Psycho, Plugin, Macintosh Magazine, Cubase Magazine, Macworld e i relativi speciali fatti proprio per Macworld. Oltre alle prime riviste online di cui parlavo prima quindi Tevac, Music Mac, Cubase.it. Le riviste avevano quel non so che di voglio tornare a leggere un attimo una cosa. Mi rileggo l'articolo, la presto ad un amico, ecco come funzionava all'epoca. Il tutto ben filtrato per evitare di leggere per quanto possibile delle castronerie, cosa che non avviene oggi nell'informazione di settore dove non essendoci un filtro a fare da barriera ci ritroviamo sommersi di informazioni spesso errate. E la didattica? La didattica era sempre di ottima qualità. Già all'estero quando in Italia nascevano editori in grado di offrire materiale didattico di elevato livello sia musicale sia informatico. Ricordiamoci dei primi video didattici in italiano di Giacomo Castellano, Simone Sello, Massimo Varini che riscossero tantissimo successo anche nel cartaceo come anche soprattutto i materiali statunitensi del mercato VHS che attendevamo sempre con estremo piacere per poter studiare gli ultimi leaks o le tecniche che ascoltavamo sugli album che tanto ci piacevano. I seminari erano molto molto frequenti nelle scuole in tutta Italia e nacquero proprio negli anni 90 le prime scuole di musica moderna altamente specializzate. La Lizard, il St. Louis, l'Università della Musica a Roma eccetera eccetera. Un vero e proprio movimento fisico di musicisti su e giù per l'Italia. La musica in generale quindi era molto viva soprattutto nelle produzioni discografiche ancora non minacciate completamente dallo streaming. Il sistema manteneva in piedi un meccanismo effettivamente collaudato. Ne vorrei parlare in un altro video perché questo argomento è veramente molto lungo. È più semplice fare musica oggi, certo molto più economico e soprattutto più accessibile a tutti. Manca un fattore però importantissimo nel processo creativo e strutturale di questo mestiere come in altri del settore creativo. Il tempo perché anche se le nostre giornate sono sempre di 24 ore il tempo che buttiamo dietro a Facebook, Whatsapp, TikTok, Instagram è enorme. Era il tempo che usavamo per creare, sperimentare, sbagliare, riprovare, progredire, risbagliare, riprovare. Alla fine del ciclo era il tempo usato per metabolizzare quel brano, per impararlo, per capirlo e migliorarlo fino all'ultimo. Mancando il tempo per imparare non c'è tempo per creare, limitandoci nella maggior parte dei casi a copiare anche male quello che hanno già fatto altri e di fatto arrivare sempre secondi o terzi o ultimi. Continuando a guardare la foto possiamo vedere anche un lettore cd molto molto grande che leggeva fino a 100 cd, questa volta preso da Musicarte che lo utilizzava all'epoca per far ascoltare i cd dei samples. Sopra come vediamo un videoregistratore VHS che usavo anche per trasferire i video in formato digitale e le chitarre. Ovviamente avevo diverse chitarre ma quelle erano principalmente dedicate al mio genere preferito dell'epoca, il metal. Quindi come vediamo abbiamo una Kramer Pass Imperial presa da Bandiera che ho fatto un post proprio dedicato a Franco morto recentemente e una Ibanez Sette Corde Universe sempre acquistata da Franco. In quel caso Bandiera me la diede prima in prestito perché non riusciva a venderla all'epoca quindi prima degli anni 90. Questo genere di chitarra a sette corde erano assolutamente fuori mercato. Nessuno le voleva, nessuno sapeva cosa farne ma già negli anni 90 invece arrivarono il nu metal e tantissimi altri generi dove effettivamente la settima corda era uno strumento molto utile per arrivare a fare dei riff enormi. L'alternativa sarebbe stata scordare la chitarra a sei corde. La Ibanez in foto è una Universe, prima serie, che non possiedo più. La vendetti ad un collezionista di Firenze attraverso il negozio Mock. Quindi se per caso qualcuno sta guardando questo video, abita a Firenze e ha acquistato nei primi anni 2000 una Ibanez Universe potrebbe essere la mia. Che come dicevo vendetti circa nel 2001 per poter passare ad una chitarra Carvina a sette corde che ancora possiedo e che era il mio endorser dell'epoca. Una parentesi va fatta sul mixer Yamaha che vedete dietro al computer Pismo. All'epoca, quindi prima di arrivare all'RME Emmerfall DSP, era impossibile registrare senza latenza, quindi senza ascoltare latenza. Di conseguenza il segnale del microfono veniva splittato in due. Una parte andava verso la scheda audio e la copia del segnale andava verso il mixer che andava in cuffia al cantante o al musicista. In questo modo il mixer poteva avere un ritorno di segnale del microfono, anche se il mixer era digitale, ma comunque non aveva un processing estremo. Quindi chiaramente non si sentiva, non si avvertiva la latenza e il ritardo. In questo modo appunto col mixer gestivo l'ascolto, il ritorno quindi in cuffia. Nonché l'uscita dal computer che andava sempre nel mixer e finiva o in cuffia, quindi la base andava in cuffia, o nelle casse appunto le Yamaha NS10, a cui ho dedicato un video che trovate proprio sul canale perché la storia di queste casse è mitica. In ultima analisi l'acustica della stanza come vediamo era terribile, veramente terribile. I monitor erano assolutamente aperti, quindi un triangolo assolutamente non equilatero, pavimento, parete, specchio dietro, riflessioni a più non posso, nonché una finestra a destra che rifletteva ulteriormente il segnale dello studio. Quello che vediamo però è la stessa identica stanza che state guardando ora mentre vi parlo, cioè è stata utilizzata questa stanza per ricostruire il mio JGR studio moderno che abbiamo visto in un altro video. Quindi la stanza è esattamente la stessa, ovviamente disposta in maniera completamente diversa e trattata acusticamente in maniera molto pesante. In ultima analisi vorrei ringraziare tutti i miei follower proprio attraverso questo video perché comunque nonostante le difficoltà, gli errori che si commettono all'inizio della nostra carriera possono essere ora tutti evitati grazie alla quantità di informazioni, di video, di test che sono stati fatti su YouTube, sul mio canale, su tanti altri canali. È ora molto più semplice, come vi dicevo, produrre musica, acquistare attrezzature. Sta soltanto a noi dover decidere il tempo, le 24 ore, come impiegarle al massimo, al meglio per poter produrre musica di qualità. In questo momento storico veramente non esistono scuse tecniche che ci impediscano di fare musica di altissimo livello. In qualunque situazione partiate, abbiate fede, seguite il vostro istinto e migliorate passo passo, piano piano, tutto il vostro setup tecnico per poter arrivare ad un ascolto prima ottimale e poi produrre musica in maniera ancora migliore. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao a presto! Ciao a presto!